Carceri in Piemonte, continua l'emergenza, sovraffollamento. A denunciarlo il garante regionale delle persone detenute Bruno Mellano in apertura della conferenza stampa di presentazione del quarto dossier delle criticità strutturali e logistiche delle carceri piemontesi tenutasi a Palazzo Lascaris. In questo momento noi abbiamo 4.500 detenuti per una capienza regolamentare di 3.971 posti ma a questi posti occorre toglierne almeno 300 che non sono momentaneamente disponibili. Questo vuol dire un utilizzo forzato delle strutture. Noi abbiamo una serie di strutture nate negli anni del terrorismo, della massima sicurezza e in questo momento il carcere dovrebbe fare essenzialmente recupero, reinserimento, formazione, lavoro dare la possibilità di utilizzare il tempo della detenzione per una finalità trattamentale. Il documento, elaborato dalla garante regionale in collaborazione con il coordinamento piemontese dei garanti, verrà indirizzato al capodipartimento dell'amministrazione penitenziaria Francesco Basentini, al provveditore dell'amministrazione penitenziaria del Piemonte Pietro Buffa e ai referenti politici del Ministero di Giustizia. All'evento sono intervenuti i garanti comunali di Alba Alessandro Prandi, di Asti Paola Ferlauto, di Biella Sonia Caronni e di Saluzzo Paolo Alemano, che hanno denunciato come le carceri siano state negli anni abbandonate a se stesse e necessitino di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non più rimandabili. Il coordinamento piemontese dei garanti ha anche annunciato una serie di iniziative per il 2020, tra cui un seminario per verificare la fattibilità di una casa famiglia per mamme in esecuzione penale con bambini a seguito e una visita alla caserma dismessa di Casale Monferrato, provincia di Alessandria, individuata come possibile carcere. All'incontro ha preso parte, tra gli altri, la garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza, Ilenia Serra.